Novità sulla patente appunti per le imprese. Le modifiche alle norme sulla sicurezza sono state approvate in commissione con un emendamento al decreto PNRR che lunedì approda in aula. Per ottenere la patente basterà solo un'autocertificazione. Si parte sempre da 30 punti e ne servono 15 per continuare ad operare nei cantieri. Ma dopo le modifiche, nella maggior parte dei casi, le decurtazioni saranno meno severe. Se l'impresa scende sotto la soglia di 15 punti potrà comunque completare l'appalto a condizione di avere superato il 30 per cento dei lavori. Scelte insufficienti e sbagliate accusano le opposizioni. Critiche anche CGL e UIL che giovedì hanno scioperato per la sicurezza. Manifestazione a cui non ha partecipato la CISL che oggi ha riunito i suoi delegati a Roma e tiene una posizione più sfumata. Bene i primi passi del governo ma bisogna fare di più. Dobbiamo costruire una grande strategia nazionale che ponga fine a questa lunga scia di sangue. Al di là degli inviti all'unità, Sbarra insiste nella polemica con CGL e UIL. Non accettiamo presunte elezioni di sindacato, attacca. La CISL critica poi i referendum proposti da Salvini. È anacronistico, sostiene Sbarra, chiedere di tornare all'articolo 18.